Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al quarto video su git in questo video vediamo come effettuare una modifica multipla di più file e come vedere le modifiche effettuate sui singoli file ad esempio andiamo a creare due file di testo index e stile questa è la home page del sito questo è il foglio di stile ok quindi ho creato questi due file adesso ovviamente se lancio git status mi viene restituito che ci sono due file non tracciati adesso io potrei aggiungerli singolarmente quindi fare git add index.txt e poi lanciare git add stile.txt oppure lanciare direttamente git add punto vedete li ha aggiunti tutti e due adesso posso lanciare il commit e scrivere ad esempio aggiunti index e stile ok e quindi lo status è tutto ok posso anche saltare questi due step ad esempio qui metto una q qui metto una q maiuscola ok e quindi li ho rimodificati ok e innanzitutto vorrei vedere le differenze quindi lancio git diff git diff mi fa vedere che io ho modificato il file index.txt da così cioè questa è la home page del sito a questa è la home page del sito con la q grande quindi in rosso mi viene segnalato la vecchia versione in verde la nuova versione e la stessa cosa per il file stile.txt è un po' confusa la stampa però ci si fa subito l'abitudine quindi in rosso abbiamo la vecchia versione io posso lanciare direttamente git commit a cioè faccio add e commit insieme e poi posso sempre decidere di inserire un messaggio commit e add insieme vedete adesso io ho aggiunto e ho effettuato il commit nello stesso momento quindi questo ci facilita un po' con le operazioni ci fa perdere meno tempo anche per questo video è tutto abbiamo visto come modificare più file insieme e come evitare alcuni step e come vedere soprattutto le modifiche effettuate ai singoli file per questo tutorial è tutto noi ci vediamo al prossimo video